La mancata riapertura del sottopasso di Via Torino finisce alla Camera dei Deputati. Nella giornata di ieri, infatti, l'esponente di Forza Italia Gigi Cascillo ha comunicato di aver presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell'Infrastruttura e Danilo Torinelli, affinché si ponga fine allo scarico di responsabilità e al balletto di competenze tra gli enti coinvolti che stanno pregiudicando il definitivo completamento e la non procrastinabile riapertura dell'indispensabile sottopasso. Un'interrogazione che rappresenta anche un sollecito di intervenire a favorire una consegna dell'opera in tempi brevi e a verificare per quanto di sua competenza lo stato di attuazione per consentire il passaggio dei pedoni e ripristinare la scorrevolezza e soprattutto la sicurezza del traffico veicolare.